Trasmette nichilismo, trasmette quello che poi viene trasportato nella politica, nella nostra Italia che continua ad essere un paese di eccellenze, un paese di gente per bene, perché poi non dimentichiamo che, come diceva quel tale, fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce, quindi il 99% della gente per bene sta zitta e l'1% della gente maleducata fa rumore e tutti si pensa che quello sia un paese maleducato, questo non è un paese maleducato, è un paese però che di fronte a determinati modelli noi siamo quello che vediamo, i nostri ragazzi crescono guardando la televisione, guardando internet e quindi devono avere dei modelli positivi, quando io ero bambino i modelli che proponeva la televisione erano quelli da grande, si voleva fare l'astronauta, il medico, l'ingegnere e tutti noi sognavamo di fare l'astronauta, il medico e l'ingegnere ed era un modello positivo, è quello dell'Italia del boom economico, del baby boom etc., che ha fatto delle cose importanti, ci sono stati anni dopo che per motivi tra virgolette commerciali si sono proposti altri modelli, il modello della velina, il modello del calciatore, cioè dell'ottenere delle cose senza fare fatica, a mio avviso una delle cose più diseducative in cui si innestano alcuni comportamenti televisivi e quello del grande fratello, il grande fratello è stato un grande successo, adesso è già declinato, a mio giudizio per fortuna, in cui delle persone stavano tutto il giorno a fare nulla, discutendo del nulla e litigando per delle cose assolutamente futili. Questo era un modello di vita, era un modello di vita che veniva radicato nei nostri figli e questo è sbagliato, gettare del cibo per terra fosse anche un cibo sbagliato, un cibo non buono è un segnale devastante. Io sono cresciuto in un'Italia che era uscita da non molto dalla guerra che faceva fatica a rimettersi in sesto, dove mia nonna mi ha sempre detto ricordati che Gesù è sceso da cavallo per raccogliere una briciola e quindi non la puoi buttare per terra, quella briciola è importante, il sale è importante, lo zucchero è importante, tutto è importante, perché noi siamo quella roba lì che mangiamo. Allora cibo sta nel suo valore culturale, quando noi diciamo brodo di cultura utilizziamo delle immagini che sono in qualche modo legate all'agricoltura e al cibo per rappresentare l'ambiente in cui noi ci sviluppiamo e cresciamo. Grazie a tutti.